A distanza di pochi mesi dall'ultima elezione, a seguito delle dimissioni dalla carica di presidente di Giuseppe D'Anonso, si sono svolte nella sala assemblee del BIM Romano Tordino le elezioni del nuovo presidente, alla presenza di sindaci e delegati del territorio. Per un voto e alla seconda candidatura ad essere stato eletto è il vice sindaco di Torricella, Marco Di Nicola, con 19 voti dell'assemblea consortile contro i 18 ottenuti dallo sfidante il consigliere del Comune di Teramo, Graziano Ciapanna. È stata sempre una lotta molto difficile, devo dire che non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, infatti già avevo assaporato la sconfitta perché già comunque l'ho vissuto a maggio, però adesso è un'altra situazione, cercherò di portare comunque un contributo semplice, non con stravolgimenti e cose del genere, il dialogo, il dialogo è importante con tutti i comuni, anche con chi magari ha espresso altre valutazioni nei miei confronti. Un BIM inclusivo ma come deve essere, deve essere normale, un BIM normale a servizio dei sindaci e dei territori. Tra i primi obiettivi del neopresidente Di Nicola, quello della rivalutazione dei canoni. Su questo ci dovremmo lavorare subito, anche già da domani, e interloquire con la Feder BIM perché con la Feder BIM possiamo dare atto a tante situazioni che possono essere un aumento della contribuzione per quanto riguarda i canoni dell'energia. Per cui puntare soprattutto a quegli aspetti lì, è ovvio che da lì dopo si ripercuotono tutte le risorse al territorio, quindi a tutti i comuni, quindi maggiori introiti, maggiori introiti per i comuni.